Lavoro ormai da diversi anni presso l'Istituto Fontana Rossa con progetti PON di teatro e di danza. Ogni volta questi piccoli artisti e grandi mi danno tantissime soddisfazioni. Io vedo proprio una crescita durante il percorso. Le ore che abbiamo sono davvero poche, sono 30 ma riusciamo a fare davvero tanto, tanto, tanto. Sono molto soddisfatta anche quest'anno, è stato un successone, sia il primo spettacolo che il secondo. Quest'anno non ho scelto una storia, ma per entrambi ho scelto una varietà di fiabe per i più piccoli e di musical per i più grandi. È andata davvero molto bene perché sono stati dei piccoli professionisti. Colgo l'occasione per ringraziare il dirigente scolastico Cetti Tumminia che ancora una volta mi ha donato tanta fiducia. Grazie di vero cuore. Ringrazio anche i tutor dei progetti, Barbara Piana e Antonella Riela. Sono stati i miei bracci e mi hanno supportata, sopportata e le ringrazio di vero cuore. Ringrazio inoltre anche l'assistente tecnico Domenico Leonardi, il grafico Giorgio De Luca, l'assistente Paolo Carbonaro, la nostra sarte di scena Antonella Proto. Ringrazio il nostro direttore di SGA Emanuela Ricceri e inoltre ringrazio il nostro assistente Giuseppe Mucimaca. E che dire, ci vediamo l'anno prossimo.